Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ah, c'està! Ah, nooo! Uzza過ぎる! Uzza過ぎる! Oh, la la la... Ah! 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 Why do I always get these fucking broken ass motherfuckers? Ah! Ah! They're always broken! Everytime! Game is frozen LUL Option Game is frozen The nearest stronghold... The nearest stronghold... The nearest stronghold... Ding! I don't want themading opening up to the front. Yeah! Sì, 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 sì. no il rebrand here calling you Ron feels wrong no really annoying that they put the purple ones there like what noooo what the fuck was that what the fuck was that are you serious alright here we go what the fuck oh my god what the fuck what the fuck are you kidding me no 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 fucking shot no fucking shot no that's bullshit that's that is ridiculous oh my god oh my god Il nostro cibo è uno di chiunque. Il ha già fatto un'altra cibo? Cioè un'altro. Il nostro cibo è stupido. Ci sono veramente molto molto. Il cibo è un'ecido. Ma lo so... Sorry. Uuummm... Knowledge was gained, for sure. non lo che non ho pensato che mi pensavo ma abbiamo qualcosa abbiamo raggiunto ok la stagione è la stagione la stagione non è la stagione ewa 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 è il è il è è è è è è è è è il è è il è questo è We're descending Now this plan could go very poorly If we hit like That No 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 I I I Non c'è nessuno C'è nessuno C'è un'amplice di essere un'amplice C'è un'amplice C'è un'amplice C'è un'amplice Streamer C'è qui C'è un'amplice C'è un'amplice C'è un'amplice non c'è nessuno di tutto, non c'è nessuno di quello che non c'è nessuno? second you gotta be your bullshit right in front of you fat literally right in front of you zoomer slowly leveled up slice him up birds zoomers lo I can't hit because my character is fucking Michael Jay Fox generating I don't know if that silverfish was real. Stop! Fuck you! Death fuck! Death fuck! Stupid fuck! Death! Death fucking stupid! Oh my god, he's so fucking stupid! Slip my fish! Slip my fish! Slip my fish! BLIND STUPID FUCK! Do I hear it? No! No! Oh my god, go back to the nether dude. He is not hopping in. Oh my fucking god, he's so fucking shit! Oh my god! Oh my fucking god! He is so fucking stupid! Oh my god! 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 Oh my god!